I videogiochi sono la tua passione? Allora vieni da PROGAME! Da noi troverete tutto quello che riguarda il mondo dei videogames. Console, accessori, contenuti digitali, tutte le ultime novità. E inoltre si effettua valutazione e ritiro del vostro usato per le principali console PS4, PS3, Xbox One, 360, Nintendo Switch, Wii e 3DS. Organizzazione tornei con doppia postazione, rivenditore ufficiale Games Workshop. E infine vendita e assistenza tecnica per computer e telefonino, anche a domicilio. E allora? Che cosa aspetti? Corri in negozio. Siamo a Lucera, in via Washington 23. Ti aspettiamo!